la votazione finale assegnata a questo prodotto di delonghi e di 9.2 voti su 10 online risulta essere il più venduto le sue peculiarità sono facile da usare comodo versatilità ottimo rapporto qualità prezzo facile da pulire sapore in basso nella descrizione del video trovi il link del prodotto con maggiori informazioni e prezzo aggiornato questo prodotto realizzato da george forman ha conquistato una votazione di 8 su 10 punti totali risulta essere il più votato per questa categoria con 2011 valutazioni le sue funzionalità sono comodo facile da usare ottimo rapporto qualità prezzo facile da pulire facile da montare sapore se vuoi avere maggiori dettagli su questo prodotto o vuoi acquistarlo clicca il link che trovi nella descrizione in basso del video electrolux ha realizzato un prodotto a cui abbiamo aggiudicato un voto complessivo di 8.6 su 10 lo valutiamo come la scelta migliore le caratteristiche principali sono facile da usare facile da pulire versatilità ottimo rapporto qualità prezzo se vuoi conoscere il prezzo di questo prodotto o saperne di più clicca il link che trovi in basso nella descrizione del video Weber ha realizzato un prodotto a cui abbiamo assegnato un voto di 9.4 su un totale di 10 punti è il più esclusivo di questa selezione le sue principali funzionalità sono facile da usare facile da montare facile da pulire il prezzo di questo articolo insieme a maggiori informazioni è consultabile attraverso il link che trovi in basso nella descrizione del video la valutazione finale assegnata a questo articolo di ariete è di 8.4 voti su un totale di 10 ha per il momento il miglior rapporto qualità prezzo viene molto apprezzato per queste caratteristiche leggero facile da usare comodo cura facile facile da pulire ottimo rapporto qualità prezzo se cerchi maggiori informazioni e vuoi vedere il prezzo aggiornato di questo prodotto controlla il link che trovi nella descrizione sotto il video severin con questo articolo si è aggiudicato un voto finale di 7.8 su 10 è il più scontato di questa selezione le sue qualità sono facile da usare facile da montare facile da pulire in basso nella descrizione di questo video trovi il link per avere maggiori informazioni o consultare il prezzo aggiornato di questo prodotto il voto complessivo di questo articolo di sante wellness è di 9.2 su 10 è il più desiderato i suoi punti di forza sono ottimo rapporto qualità prezzo comodo facile da usare facile da pulire facile da montare se vuoi avere maggiori informazioni e vuoi conoscere il prezzo di questo articolo clicca il link che trovi in basso nella descrizione del video